E' arrivata a Napoli la fiaccola della trentesima universiade, è tutto e pronto, domani cerimonia di apertura con il presidente della Repubblica Mattarella. Al campus di Fisciano gli atleti delle universiadi accolti negli alloggi dei colleghi salernitani, amicizia nel nome dello sport. Dramma in Turchia, incendio su una nave della compagnia marittima Synergas di Napoli, morto un ufficiale. Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli la mostra Paideia, giovani e sport nell'antichità, lo sport che diventa arte, inaugurazione con lo spettacolo Patrizio vs Oliva. Buonasera e bentrovati, è tutto pronto per la trentesima universiade Napoli 2019, 18 discipline sport.